In Piemonte nel 2017 sono stati 47.000 gli infortuni denunciati sul lavoro, un dato in calo rispetto agli ultimi tre anni. Da oggi ad assistere i pazienti che riportano danni gravi e hanno bisogno di ausili c'è anche una nuova struttura, inaugurata a Torino dal centro protasi dell'Inail. Stefano Tallia. È in funzione in maniera sperimentale da 11 mesi durante i quali ha trattato oltre 100 casi ma solo ora è stato inaugurato ufficialmente. Il punto di assistenza del centro protasi dell'Inail porta in Piemonte le competenze della struttura di Budrio, una delle eccellenze mediche italiane. Sul nostro territorio il servizio di assistenza è destinato ad accogliere una platea molto vasta di persone, considerato che in regione sono quasi 11.000 le persone con una disabilità da lavoro. 9.000 di queste hanno riportato danni gravi, 1.000 gravissimi e 300 assoluti, pazienti che potranno ora disporre di un servizio più efficiente nella messa a punto degli ausili e senza dover affrontare il viaggio fino a Bologna. Ma al centro si potranno rivolgere anche gli atleti paralimpici seguiti dall'Inail e non a caso a tagliare il nastro inaugurale è stata la tenista Silvia De Maria. Il centro torinese affianca gli altri sette poli di assistenza che l'Istituto degli Infortuni ha aperto in Italia. una politica di decentramento destinata ad estendersi ulteriormente nei prossimi anni.